Buonasera, buonasera a tutti, sono Paolo Zambarbieri, esperto sulla piattaforma di Interactive Brokers e anche oggi, come ogni venerdì, sono qui per rispondere a tutti i vostri dubbi. Ditemi subito se ci siete, se sentite bene che abbiamo fatto un cambio microfono oggi, quindi datemi magari un feedback, così partiamo. Ok? Ci siamo? Allora, iniziamo subito con una prima domanda che avevo trovato oggi nel nostro forum del nostro collega Stefano. Stefano ci chiede come può sfruttare al meglio il multi-carnesy account della piattaforma di Interactive Brokers. Allora, cosa vuol dire questo? Come sapete, la piattaforma di Interactive ha la possibilità di far coesistere all'interno del suo conto diverse valute, rendi contando il tutto però in un'unica valuta base. Allora, facciamo questo esempio. Stefano ovviamente per tutti perché questa cosa qua è importantissima, mi raccomando. Allora, andiamo sulla voce account che potete recuperare in alto a sinistra, delineata dalle tre monetine. A questo punto si aprirà questa finestra nella quale abbiamo la possibilità di vedere la salute, diciamo, del nostro conto. Cosa succede? Il mio conto, in questo caso della mia simulata, è rendi contato tutto in dollari. E come potete vedere però, all'interno non esistono solo dollari, ma ci sono CHF, quindi franchi, svizzeri, euro, sterline e yen. Quindi questo cosa vuol dire? Vuol dire che io su queste valute ho fatto dei trade, ad esempio anche un trade in forex, ad esempio dollari contro sterline, ad esempio dollari contro euro, eccetera eccetera e così via. Cosa succede? Quando io vado ad impostare un'operazione su una valuta differente dalla mia valuta base, quindi nel caso in cui io, in questo caso ho dollari come valuta base e vado ad operare sul mercato europeo, quindi tradotto in euro, cosa succede? A seconda di come andrà il mio trade, avrò o un credito o un debito su quella valuta, ok? Mettiamo il caso che io sono andato ad operare sul DAX, avendo il conto in dollari, cosa succede? Mi si chiude tutta l'operazione, mi è andata bene l'operazione sul DAX e vado a riportare un credito. In questo caso mettiamo che io ho un credito su euro di 13.427. E questo cosa vuol dire? Vuol dire che finché sono in credito mi va benissimo, lo posso lasciare qui bello tranquillo e tenerlo all'interno del mio conto, perché comunque mi viene tutto il reddito di contatto nella valuta base. Se invece al contrario questo trade mi va male, quindi vado in perdita, ad esempio mettiamo il caso che vado ad operare in fore su dollari e franco svizzero, come vedete in questo caso io ho un debito su quella valuta, sul franco svizzero, in questo caso 10.472. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che in questo momento io sto pagando degli interessi passivi al broker, perché è come se il broker, quindi Interactive, mi presta quella valuta. Quindi qual è la questione? La questione è se vi dovesse capitare una situazione di questo genere, a questo punto se doveste avere un debito su una valuta che non è quella base, allora il mio invito è quello di andare a chiudere la valuta in cui avete il debito e riportare tutto nella valuta base. Come si fa a far questo? Basta andare sulla valuta in cui abbiamo il debito, fare tasto destro e chiudi saldo in questa valuta base. Quindi faccio il primo clic, gli do l'ok e come vedete la piattaforma in automatico vi dà sull'interfaccia base l'operazione di forex conversion che volete attuare. Qual è il vantaggio di Interactive Brokers? Il vantaggio è che innanzitutto per un'operazione in forex non esistono lotti, minilotti eccetera eccetera. Noi possiamo entrare a mercato con una qualsiasi quantità. Come potete vedere in questo caso il debito che volevo chiudere era di 10.472 franchi svizzeri, anche qua come quantità avete la stessa ovviamente. Qual è il vantaggio di avere un multi currency account? Il vantaggio è che possiamo andare a cambiare i nostri soldi quando vogliamo e al prezzo che vogliamo. Quindi mettiamo il caso che io semplicemente non voglio neanche operarci sulla piattaforma, ma voglio solo scambiare la giacenza che ho in banca magari dei dollari e voglio scambiarli. Se vado in banca, l'omino che trovate al banco posto cosa vi chiede? Vi dice, sì vi scambio il tutto ma lo scambio al prezzo che voglio io e quando lo voglio io. Mentre qua su Interacti se volete scambiare dei soldi avete una grandissima opportunità perché vi ripeto potete entrare quando volete voi, la quantità che volete voi e ovviamente al prezzo che volete voi. Quindi non siete costretti ad accettare quello che è il prezzo di mercato. Quindi Stefano e per tutti gli altri questa funzione che trovate come vi ripeto ancora nell'account è una cosa importantissima, quindi sfruttatela al meglio. Ok, vado avanti. Allora, la domanda successiva di Davide. Davide ci chiede come avere la piattaforma FreeTrial prima di aprire il conto. Allora Davide, dato che ovviamente non ci avevi contattato, mi ricordo benissimo di te, sempre una domanda che avevo preso sul forum, mi ricordo. Vi faccio vedere come, per Davide e per tutti gli altri, come andare a recuperare, andare a provare, a toccare con mano quella che è la piattaforma che vi fornisce Interactive Broker senza avere ancora aperto un conto. Allora, datemi un attimo che vi metto di fronte a voi il sito di Interactive. Datemi proprio un attimino che ve lo porto subito davanti. Eccoci qua. Allora, una volta che avete aperto la pagina principale di Interactive Brokers, cosa facciamo? Andiamo sulla voce prova gratuita, ovvero in inglese, ovviamente se l'avete in inglese, in FreeTrial. Cliccando qua, avete la possibilità di iniziare la vostra prova gratuita. Schiacciando sempre su questo indirizzo, andate ad inserire quelle che sono un vostro indirizzo mail, un nome utente che potete creare dal nulla e una password e ovviamente dandogli la conferma e scegliendo la nazione in cui abitate, in cui vivete e schiacciando avanti, Interactive Brokers vi dà già la possibilità di scaricare quella che è la piattaforma demo che è sostanzialmente uguale e identica alla piattaforma che poi troverete in reale. E' chiaro Davide, per tutti gli altri, ha delle limitazioni la FreeTrial, normale, come ovviamente fanno anche tutti gli altri broker, però avete comunque la possibilità di toccare con mano quello che è il software che vi mette a disposizione Interactive Brokers, che vi ricordo fino a pochi tempi fa era utilizzato solo e solamente da istituzionali. Benissimo, vado pure avanti. Allora, una domanda di Gianni. Allora Gianni, ho capito già cosa intendi con questa domanda. Allora Gianni ci chiede, avevo un bull call, quindi un'opzione a debito su Netflix ed ho chiuso la gamba venduta in modo tale da lasciar ancora la gamba comprata, ma dalla gamba comprata mi si sono tolte le posizioni che avevo in macchina. Allora, questa bull call è un'operazione che abbiamo messo all'interno del Trading Club ed era composta in questo modo. Vi faccio vedere ovviamente a tutti per conoscenza. Netflix, via, allora Nasdaq, Stock. Allora, la combo era costruita in questo modo. Allora, sottostante Netflix, tipo opzioni, exchange come borsa di scambio, smart, che è il mercato più liquido, la strategia era un vertical, era in acquisto, ok? Quindi avevamo come strike in acquisto, allora la scadenza era mazza se non mi sbaglio, allora, no, era aprile, scusate, era aprile, era aprile, allora il diritto era una call, come hai detto giustamente tu Gianni, allora avevamo l'acquistata a 100, quindi andiamo a scegliere lo strike a 100, eccoci qua, e la venduta era a 105, quindi eccoci qua. La combo era composta in questo modo. Noi l'avevamo acquistata, come vi fa vedere anche nel riepilogo, quindi buy 100 call, sell 105 call, e cosa è successo, allora, mettiamo il caso che io ve la mando subito a mercato, così vi faccio vedere sempre a te Gianni e a tutti gli altri cosa è successo, probabilmente alla tua operazione. Allora, tu avevi una situazione di questo genere, quindi avevi la tua 100 che era acquistata, come potete vedere, è in posizione 1 ed è di colore verde, ovvero in acquisto, mentre la 105 call che era invece venduta, quindi posizione meno 1, e invece era in vendita. Cosa ha fatto il buon Gianni? Il buon Gianni ha cercato di sfruttare una delle, come si può dire, delle opportunità davvero importanti che ci danno le opzioni, ovvero quella di lasciare correre la gamba comprata. Quindi Gianni, se ti è successa questa cosa, ovvero che se hai chiuso la venduta e ti sei chiuso la comprata, anche hai sbagliato, ti dico la verità, te lo dico anche fuori dai denti, perché probabilmente hai agito direttamente dalla strategia. Perché se tu andavi direttamente qua sulla venduta e facevi tasto destro, facevi close, andavamo a mercato, guarda, eccoci qua. Allora, come vedi, la gamba che ti sei chiusa è stata solo la venduta, l'ha comprata, la posizione è rimasta tale, è rimasta sempre 1, quindi probabilmente ti sei confuso e sei andato a chiudere direttamente tutta la strategia. Quindi hai fatto proprio, dato che l'abbiamo acquistata, avrai fatto un sell e come puoi vedere anche tu adesso, guarda, vedi, ti sei chiusa anche la posizione della comprata, quindi in sostanza cosa è successo? Ti sei chiuso tutta l'operazione. E probabilmente sì, hai sbagliato, mi raccomando, stai sempre a corto e piuttosto a ricontrollo quando vai a mandare a chiusura una gamba o comunque tutta l'operazione. Andiamo pure avanti. Allora, Anna ci chiede come andare a comporre una strategia in spread. Ok, Anna, allora per questo vediamo un po'. Io avevo visto in giornata, perché sapevo che qualcuno avrebbe comunque chiesto una composizione di strategie, mi avevo preparato già una strategia in opzioni, che comunque ormai abbiamo già visto anche su Nelfix, ma anche una sugli spread. Lo spread che volevo farvi vedere oggi è uno spread sullo zucchero. Allora, innanzitutto andiamo a vedere lo zucchero, tra i nostri bei future. Allora, zucchero fa parte dei coloniali tropicali, come potete vedere anch'io ho i dati indifferiti, perché il pacchetto per queste materie prime è l'ice, che costa la bellezza di 102 dollari al mese, quindi neanche io lo sono andato a sottoscrivere. Nonostante tutto, ovviamente, possiamo operare in tranquillità con i dati indifferiti. Quindi andiamo a vedere quello che è il ticker dello zucchero, il nostro sugar, SB, eccoci qua. Allora, il nostro spread diceva questo, andiamo ad acquistare la scadenza di ottobre 2016 e andiamo a vendere invece la scadenza di maggio 2016. quindi andiamo a prendere la nostra cartellina, dove è, dove è, dove è, domanda risposte che l'avevo fatta vuota per voi, eccoci qua. Andiamo a prendere il nostro ticker, SB, invio. Andiamo a prendere il nostro future, tradotto su Naibot e mi va benissimo. Andiamo a prendere la prima scadenza in acquisto, che come abbiamo detto è ottobre, quindi andiamo su di più molteplici, scegliamo Naibot, sempre come borsa di riferimento, e andiamo a scegliere la nostra scadenza di ottobre. Eccoci qua. Vogliamo aggiungere derivati sempre no, successivamente andiamo a inserire anche l'altra gamba, SB, invio, future, di più molteplici, sempre scadenza Naibot, e andiamo a prendere la gamba in vendita, ovvero quella di maggio, quindi 05 2016. Eccoci qua. Qua possiamo fare anche, ricordiamo, la mia decisione, sempre no. Ok. Ora, come facciamo a comporre una strategia in spread? Allora, andiamo a prendere una riga vuota, selezioniamo il nostro tasto combinazione, se non ce l'avete qua, vi faccio vedere come andarlo ad inserire e mantenerlo tra i pulsanti principali, andiamo su questa freccettina che è rivolta verso il basso, andiamo su aggiungi più bottoni, più pulsanti, e scegliamo combo. Successivamente, premiamo sul tasto, e per la costruzione di uno spread, ci spostiamo la voce per or leg by leg. Quindi, allarghiamo un po' bene per farvi vedere quello che sto facendo, andiamo a inserire all'interno della sezione grigia, quella che è la nostra gamba in acquisto, quindi la teniamo premuta con il tasto sinistro, e la spostiamo all'interno del nostro campo grigio. Facciamo la stessa cosa, ovviamente, anche per lo spread in vendita, quindi, scusate, per la gamba in vendita, teniamo premuta con il tasto sinistro, e spostiamo all'interno del nostro combo selection. diamogli pure ok, qua ci fa notare, ovviamente, la piattaforma che i mesi in cui andiamo a tradare sono differenti, ma mi va bene così, ed ecco qua che il vostro spread è stato composto, quindi, se andiamo ad acquistarlo, come potete vedere, se andiamo ad acquistare il nostro calendario, andiamo ad acquistare la gamba di ottobre, andiamo a vendere la gamba di maggio, come quello che vogliamo fare, ovviamente. Chiudiamo. E ora, direi che lo possiamo anche mandare a mercato. Questo, tra l'altro, è un buon trade, l'avevo analizzato oggi, insieme al mio collega Matteo Nelli, esperto in spread trading. Sicuramente lo tratteremo, e vedremo qualcosa in più, per quanto riguarda questo spread down, anche all'interno del trading club. Allora, facciamo buy, scegliamo un nostro prezzo di entrata, che vediamo un po', il nostro BDS, che è anche molto stretto, quindi, guardate, io faccio anche lo spavaldo, e mi metto a 0.0031, ovvero l'ASC. No, scusate, il rubaccio, ovvero il bid, quindi cercherò di rubare qualcosa un po' al mercato. Facciamo un preview. Ok, quindi ci richiede anche un margine relativamente ridotto, comunque perché abbiamo la stessa materia prima. Direi che è un bellissimo spread da mettere in macchina, io lo mando a mercato, infatti. Ovviamente adesso ancora non è entrato, è attivato ovviamente nel Naibot, ma non è ancora entrato a mercato, perché ovviamente dandogli un prezzo limite, ovvero un prezzo deciso da noi, non entrerà al mercato, fino a che il nostro prezzo in ASC, che sta battendo adesso, ovvero 0.0031, non andrà a toccare il prezzo da noi deciso di 0.0028. Ok? Anne per tutti? Ok, benissimo, benissimo. Allora, andiamo pure avanti. Giacomo, ok, Giacomo ci chiede come andare ad impostare sul Forex un ordine che, mandandolo al mercato in automatico, mi alleghi anche gli ordini bracket. Ok, allora, vediamo subito, prendiamo magari Euro-Dollaro. Invio. Allora, vediamo un po', se io faccio tasto destro e faccio Buy, ah ok, io ce li ho già legati in questo caso, benissimo. Quindi, vediamo un po' come tornare indietro e farlo vedere anche a te. Allora, sicuramente devi selezionarmi la rega dell'ordine. Premere il tasto destro e andare sulle configurazioni del preset degli ordini, quindi andiamo qua. All'interno di questa schermata possiamo decidere, ovviamente, tenendo conto degli strumenti in Forex, poi possiamo farlo anche su tutti gli altri strumenti che ci offre interatti, quindi dai fiusi alle opzioni, eccetera, eccetera. Allora, gli diamo un periodo di validità, a seconda di quello che più vi piace e come ovviamente operate. Io, ad esempio, posso andarlo a cambiare anche qua, mettiamo un GTC. Una quantità di default di entrata, che è, io in questo caso ho 50k, mi raccomando, questa spunta che vi dice se volete attivare gli ordini al di forno di una maniera di trading, se allegati in automatico gli ordini bracket, non ve lo permette, vedete infatti che si arrabbia un po' la piattaforma. Quindi questa spunta, mi raccomando, soprattutto tu Giacomo, che mi hai fatto la domanda, lasciala non spuntata. Ok? Poi andiamo quindi, una volta che abbiamo scelto la quantità, andiamo a spostarci su quello che è il nostro ordine principale. Allora, l'ordine principale ovviamente è il primo ordine che mandiamo al mercato, quindi scegliamo se metterlo a mercato, quindi in questo caso io market, oppure impostare ad esempio un ordine limit o un ordine stop. Mettiamo magari limit, adesso cambio perché avevo ovviamente quello a mercato impostato. Allora, se io metto come ordine principale ordine limit, ora ho la possibilità di spostarmi su quello che è il mio take profit, il mio stop loss e agire direttamente da lì. Quindi, come target order, lasciami limit, limit e come limit price lascio il parent order, ovvero l'ordine principale. E qua a fianco vai a selezionarmi quelli che saranno i tick di distanza a cui vuoi lasciare il take profit. La stessa cosa la farai per la stop loss, quindi, ordine, tipo di ordine, sarà un ordine stop, lo stop price è un ordine principale e scegli ovviamente come hai fatto per il take profit anche per la stop loss la distanza in tick che vuoi lasciare dall'ordine principale. Ovviamente, se hai un ordine stop, ci metterai davanti il meno. Ok? Successivamente, avete la possibilità di preimpostare anche e dargli una configurazione generale a quella che è la stop aggiustabile, che in questo caso io non ho configurato, ma restiamo nelle cose un po' più semplici e un po' più dirette a quelle che è la vostra operatività e successivamente vi dà la possibilità di impostare anche l'oca gruppo, ovvero il gruppo OCA, ma quello solitamente io proverei a utilizzarlo una volta mandato a mercato l'ordine, cioè scusate, prima di mandare a mercato l'ordine, ma quando abbiamo gli ordini bracket sotto l'ordine principale, quindi per questo lasciamolo pure in modalità cancellato. Poi per quanto riguarda invece i settaggi, metti pure e mettete anche voi se volete fare una configurazione di questo genere e questi caratteri, in modo tale che quando mandate a mercato l'ordine non avete nessun problema. Facciamo apply, facciamo ovviamente qua, selezioniamo tutti, diamo l'ok e facciamo ok. Ora guardate, tasto destro, acquista, eccoci qua. Ordine principale, come vi ricordate, è un ordine tipo limit, come abbiamo impostato, il take profit che è il mio secondo ordine allegato, è anche lui un ordine tipo limit e mi va benissimo, mentre la stop loss ovviamente è un ordine tipo stop con i prezzi già configurati alla distanza che volevamo. Se io vado a trasmettere l'ordine del mio mercato, vi faccio vedere ovviamente quella che è la visualizzazione grafica di questo trade, magari non a un minuto ma lo mettiamo anche a 6 mesi, vediamo un po' se vi fa vedere un po' meglio ecco adesso un po' più vediamo se ve lo riesco a allargare un pochettino così allora scusate eccoci qua ecco qua la situazione è stata questa quindi io ho una distanza che ovviamente potete cambiare una volta che siete andati al mercato da spostare più su più in giù i vostri ordini bracket in modo tale da avere ovviamente quelle che sono le vostre configurazioni in generali allora vediamo un po' una domanda di Massimo ciao stavo provando in paper trading la vendita di un vertical spread con le opzioni se non ho visto male vendere 3 put e comprare 3 put con un vertical ha commissioni differenti che fare 3 vertical con un'opzione venduta e una comprata assolutamente sì Massimo allora sì perché in sostanza cosa succede se tu vai a creare un vertical è una combinazione artificiale quindi ti dà un tipo di commissioni se invece mi vai a aprire una singola opzione dovrebbe essere il costo commissionale sicuramente meno di un dollaro per il vertical invece guarda non ti so dire effettivamente quanto vai a pagare perché solitamente sono diversi vediamo un po' se aspetta eh mi esco un attimo da questa questa gamba che era rimasta prima in posizione vediamo eh vediamo se da qua mi fa ancora entrare al mercato con un buy vediamo un po' allora ok qua mi varia da 1.45 a 3.19 andrei sicuramente adesso sulla simulata non sono proprio completamente uguali a quelli che troverai nella reale te lo dico subito però secondo me sul vertical vai a pagare qualcosina in più ok Massimo un po' eh si ok perfetto allora Aldo Aldo ci chiede domanda di carattere generale perché certe azioni non hanno la scadenza delle opzioni ogni mese sto parlando ad esempio BHP e ha come scadenza marzo maggio ma non aprile eh guarda secondo me ah ho capito ho capito ho capito ho capito scusami eh non l'avevo capito subito ma ho capito quello che mi vuoi dire BHP vediamo subito BHP questo immagino andiamo sull'option trader vediamo un po' vediamo un po' vediamo un po' vediamo un po' hai ragione allora febbraio marzo e poi vado avanti guarda è una questione ovviamente della una scelta ovviamente della società quindi dell'azione che mi vai a scegliere nulla di più perché come vedi a volte hai più scadenze addirittura sullo stesso mese e qua mi soffermo un attimo indicandoti che il miglior modo almeno come opero io solitamente ovviamente ti dico Aldo il miglior modo per andare a scegliere una scadenza ovviamente prendere quella del terzo venerdì del mese che è la più liquida in assoluto mentre per quanto riguarda queste scadenze ovviamente è una scelta che fa il titolo non è perché non è interattivo diciamo quindi è una cosa che dipende ovviamente dalla società nulla di più quindi è ti ripeto è normale che vedi come anche ti sto dimostrando in questo momento anche io la scadenza che mi dicevi tu di aprile giustamente non è presente all'interno dell'option trader niente di più ok allora vado più avanti Marco Marco ci chiede come visualizzare il cruscotto del trader ok Marco ok trader dashboard è questa dove vi fa vedere quella che è la salute del vostro conto quindi invece che stare lì tutte le volte ad entrare nell'account dove vi fa vedere ovviamente le stesse voci quindi net liquidation value cash eccetera eccetera la potete avere di fronte a voi tutte le volte come facciamo allora devo andare sul testo view che è visualizza ecco adesso io ce l'ho guardate tutti io tolgo la spunta dal trader dashboard e mi scompare ovviamente per rimetterla sempre view trader dashboard e mi ricompare ce l'avete sempre di fronte ai vostri occhi vado subito avanti che il tempo è sempre poco dai tiranno Francesco allora come faccio a vedere tutte le operazioni che ho fatto da quando ho aperto il conto eh sì Francesco allora vediamo un po' per vedere le operazioni settimanali scusami basta che vai su trade log selezioni tutte all e ti fa vedere tutte le operazioni che hai fatto durante la settimana se invece ovviamente come mi hai chiesto giustamente tu vuoi vedere quelle operazioni che hai fatto da quando hai aperto il conto allora devi andare sul tuo account quindi account se hai aperto la piattaforma vai su account management home aspettate un attimo che adesso mi compare di fronte la pagina che sta caricando perché ovviamente devi andare a scaricare quelli che sono stati gli statement quindi ovvero tutte le operazioni tutte le commissioni tutte le entrate e uscite che hai fatto qua è davvero tutto quello che è stato la tua vita all'interno del tuo conto allora guardate adesso vi faccio vedere ovviamente questo qua del mio simulato appena mi carica la pagina eccoci qua allora dovresti andare su documenti rendi conti e poi rendi conti ancora adesso ovviamente dovete lasciare un attimo al conto che elabori il tutto allora il periodo magari inizio anno mettiamo da inizio anno 2016 avete il formato con cui potete scaricare ovviamente quelle che sono state le vostre operazioni io di solito per comodità utilizzo il pdf e facciamo visualizza adesso ovviamente sta elaborando la vostra richiesta ecco qua quindi lasciatemi lasciatemi un attimo e non appena elabora il tutto quindi tutte le operazioni che avete fatto sono tantissimi dati ovviamente dovete lasciarli tempo vi chiede di salvarlo io me lo salvo sul desktop per comodità ve lo apro così vi faccio vedere anche di cosa si tratta ecco qua un pdf di questo genere ovviamente mi fa vedere conto demo 3d simulato voi potete vedere tutto quello che avete fatto nella vostra vita all'interno di Interactive Brokers ci sono così tante informazioni che anche un po' dettagliato è complicato da andare a leggere quindi dovete farlo passare con calma ma qua davvero trovate tutto quello che avete fatto a livello del vostro conto ok quindi Francesco direi che ci siamo passiamo oltre e andiamo a Pietro allora Pietro ci chiede come faccio ad inserire i volumi sul grafico di un future e poi mi chiede anche se si possono vedere gli storici dei prezzi dei volumi del future ok allora si ti faccio vedere un po' standard and poor ES 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 eccoci qua scadenza marzo io sono sotto anche qua di 140 dollari non è un problema vi faccio comunque vedere il grafico ok allora come potete vedere io volumi qua non li ho per aggiungerli edit parametri grafico allora qua vedete che io ho la spunta se non ce l'avete mettetela e fate applica ok e sono questi qua sotto sostanza sono questi se invece volete vederli c'era anche la possibilità di vedere l'istogramma ma l'istogramma non ve lo fa vedere finché non mettete un periodo un time frame più piccolo vediamo un po' se ho ragione se non mi ricordo male ecco infatti vedete abbassando quindi diminuendo il time frame vi da la disponibilità dell'istogramma volume che vi compare qua in alto eccoci qua quindi direi Pietro per questo direi ok visualizzazione grafica mentre per gli storici devi andare sul future a fare tasto destro e andare su questa voce devi andare su l'analytical tools ed era aspetta scusate che anch'io a volte price history ecco qua perfetto mi sono ricordato benissimo scusate anche io a volte con tutte le funzioni ho delle defiance diciamo ecco di qua guardate i volumi di quelli che sono stati le date quindi tornando anche indietro nel tempo quelli che sono stati i volumi giornalieri dello standard import quindi Pietro direi che anche per te ci siamo e siamo a posto e direi l'ultima domanda che avevo visto che era molto interessante che così dopo mi posso anche allacciare con la mia conclusione che era di Stefano adesso vado un attimo a recuperare scusate andatemi un attimo Stefano Stefano eccola qua allora Stefano ci chiede vorrei aprire un conto con Interactive Brokers come funziona il lato fiscale con Interactive allora innanzitutto ti tranquillizzo subito ti devo dire però che Interactive ovviamente ha regime dichiarativo quindi un anno dopo che sei andato a aprire il conto devi andare a dichiarare quelle che sono state le tue plus valenze o minus valenze che siano al tuo commercialista per questo guarda proprio oggi abbiamo sentito il nostro commercialista di fiducia che è anche un nostro cliente oltretutto che solitamente fa dei webinar di sensibilizzazione quindi su quello che è l'ambito fiscale e proprio oggi sono uscite le nuove normative del 2016 quindi mi aggancio subito concludendo anche questo webinar mi raccomando facciamo delle dirette anche per quanto riguarda il tema fiscale dove potete trovare i nostri eventi? vi metto davanti il nostro bellissimo sito andiamo sul nostro calendario eventi e qua potete trovare tutte le dirette che ci saranno nel corso della prossima settimana eccoci qua Stefano mi raccomando per te aspetta un attimo ad aprire il conto prima chiarisciti bene le idee vieni in questo nostro webinar di martedì nella quale puoi avere tutte le risposte per quanto riguarda la dichiarazione così ti fai anche un'idea appunto di come lavoriamo noi e come lavorano anche i nostri partner dello studio Maggi inoltre vi ricordo calendario eventi trovate tutti gli eventi disponibili della settimana un evento che vi vorrei indicare è la presentazione dell'investor club allora è un percorso che negli anni scorsi non l'abbiamo mai fatto è nuovo è per investitori che vogliono operare a lunghissimo termine quindi creiamo un portafoglio di investimento il webinar è previsto giovedì alle ore 9 fino alle 9.30 sarà in diretta con il mio collega Marco Palazzolo con i nostri collaboratori Massimo De Gregorio e Mauro Rotunno che sono specialisti da anni per quanto riguarda questo profilo di investimento quindi mi raccomando venite a vedere venite a toccare con mano ciò che siamo in grado di fare non finisce qui ovviamente nella nostra community avete i blog nella quale potete trovare tantissime notizie di qualsiasi genere quindi da attualità da tutte le dirette che abbiamo fatto quindi con tutte le registrazioni ovviamente trovate anche quella di questo di questo webinar anche tantissime ovviamente proposte di di trade quindi vi diamo un'idea di come operiamo noi di come operano i nostri top trader all'interno della piattaforma e direi anche il nostro forum ovviamente se avete qualche domanda se volete interagire con me e con i nostri membri della squadra vi raccomando nessun problema vi iscrivete e potete andare su qualsiasi banner per condividere le vostre idee e se avete in questo caso dato che è un webinar dedicato alla piattaforma se avete dei dubbi all'interno della piattaforma Interactive Brokers un clic sul banner ed eccoci qua domande tvs new topic e mettete la vostra domanda al più breve cercherò di rispondervi se non sono io ovviamente sarà un nostro collaboratore o comunque un mio collega e concludo il tutto invece con la nostra sezione per chi è nuovo la nostra sezione corsi di trading all'interno della quale potete trovare tantissimo materiale didattico per quanto riguarda tutti gli strumenti che potete trovare all'interno della piattaforma sono dei video fatti da chi è da anni che opera all'interno della piattaforma Interactive Brokers e da chi da anni è profittevoli quindi tutti i nostri top trader che mettono a disposizione la loro conoscenza per farvi crescere per migliorarvi e per magari darvi delle nuove idee per un'operatività che la quale magari non è arrivata ancora conoscenza quindi mi raccomando fatene buon uso vi ricordo sempre che il nostro obiettivo della vostra crescita è anche il nostro obiettivo perché se riuscite a comprendere al meglio quelli che sono gli strumenti e quella che è la piattaforma noi siamo contenti ovviamente perché come sapete siamo un broker e con questo chiudo vi auguro ovviamente un buon fine serata un buon weekend mi raccomando vi aspetto come sempre ogni venerdì alle 18 puntuali per domande e risposte sulla piattaforma ciao a tutti buona serata ancora ciao ciao